Ciao a tutti da Poderak, bentornati qui su Farming Simulator Company Oggi siamo con un veicolo di scorta perché dietro abbiamo una gru, un escavatore E... che gru? Un escavatore Poderak Perché dobbiamo sfruttarlo per realizzare un pozzo artesiano Siamo nella mappa Emilia e per fortuna non ci sono tante auto che creano problemi Per quanto riguarda la cascina scelta ho scelto questa zona qui per iniziare Vi faccio subito vedere Io praticamente ho scelto la zona G Che per chi non lo sapesse è la cascina d'osso vecchio Praticamente dove c'è stata anche l'idea da parte di Italian Farmer Che saluto, che ha permesso a EdoMod di fare una mappa realistica E siccome mi è piaciuta come cascina ho detto dai iniziamo da qua e facciamo qui il nostro progetto Vediamo se la curva viene fatta bene o si ribalta tutto Perché... quindi su Farming Simulator 22 ecco già una cosa che non c'è rispetto al 19 Ecco nel 19 non c'è questa cosa Qui invece ce l'abbiamo O meglio è stata fatta tardi nel 19 Comunque io mi ricordo che non ci fosse E... è proprio la possibilità di scavare letteralmente Dentro il terreno Adesso vediamo se ci entriamo con il camion Dietro abbiamo un altro socio Il socio qua ci terrà in considerazione Il materiale che dovremo poi buttare Dallo scavo del pozzo Perché io ho qua delle albicocche E... queste albicocche hanno ovviamente bisogno di acqua Anche se penso che qui mi dispiace Poderak Ma è veramente veramente stretto Allora... Prima di tutto cerchiamo di farvi vedere l'idea del progetto Dovrebbe entrare qui l'escavatore in qualche modo Forse lo faccio andare a piedi Oppure trovo una strada alternativa Andiamo di lato Qui dentro entriamo all'interno della... Del dosso vecchio E... Troviamo... Quest'area che è in quest'area E dove ci sono le mie belle mucche Qui ho piantato le albicocche Albicocche che poi andrò a raccogliere e vendere Ovviamente le albicocche hanno bisogno Come potete vedere Di... Di un po' di roba Quindi di acqua e di... Fertilizzante Penso Vediamo Vi faccio vedere giusto per capire meglio Che cosa sto facendo Andiamo in produzioni Come potete vedere Apricot Con cime Quindi la cacca delle mucche eventualmente Degli animali Più L'acqua Noi possiamo mettere Tutte e due L'acqua soprattutto Raga L'acqua è importante Però l'acqua è lontana qui So che qui sotto Con un'analisi Attraverso Degli agronomi Abbiamo visto che C'è modo di Di scavare Anche se l'accesso è un po' ristretto Perché dobbiamo passare di qua Di qua Non so se l'escavatore Ce la fa Senza distruggermi tutto La ringhiera Vediamo Allora qui il camion Probabilmente Non lo faccio entrare Nel senso Spaccherei tutto Quello che c'è da fare È lasciare qui Guardate Faccio così Aspettate Vediamo se ci riesco Ok No 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 Mi serve questo Devo andare più a fondo Ecco Posso Così sì Così sì Ok Farming Non mi Non mi scama Allora Apriamo qui Il nostro scavatore Così ci libera il camion Il camion Lo facciamo entrare Ok Perfetto E abbiamo tutto Sto spazio Che volendo Possiamo sfruttare Facciamo entrare L'escavatore Ok Ora è libero Avevo i lacci Attaccati Scusate Raga Qua ci passiamo Proprio a filo Se ci passiamo Ok Proprio a filo A filo Ma proprio a filo A filo Raga Io qua La vedo Molto dura Vediamo se Riesciamo A passare Dove dobbiamo passare O se Dobbiamo trovare Una strada alternativa Anzi La strada alternativa Ce l'avrei La strada Alternativa Ce l'avrei Ve la faccio pure vedere Solo che Non è destinata A questi mezzi Ma La cascina è questa E dobbiamo adattarci Assolutamente Al massimo Mettiamo qualche Trave Qualcosa Allora Vediamo Questo è un Cobelco Bello come Mezzo E Terra farm ready Quindi Ottimo L'accesso Per il terreno Senza passare Da lì sotto Che non ci passeremo Mai E qui Vediamo se I cingolati Ce la fanno salire Questo è il problema Vedete Però qua non c'è Non c'è Una strada vera e propria Insomma I cingolati potrebbero Non farcela Vediamo Però forse Posso aiutarmi Con Con la benna No no Ma ci passa Dai Con un po' di fatica Dai Che ce la fai Cobelco Vai Ho battuto un palo Di non so cosa Ah una scopa Ok No scopa No problem Per Poderak E ci siamo entrati Ragazzi È incredibile Incredibile Poderak Ha previsto tutto Ha previsto tutto Fino al Centimetro Già Stavo vedendo Nei commenti Poderak Non ci passerai mai E invece Questa è la soluzione Perfetta Perché lì facciamo Il pozzo artesiano Poi Abbiamo le mucche Per il concime Siccome non ho tanti soldi Ho dovuto noleggiare L'herz Come questi mezzi qui Ma sono a noleggio Questi qui Mi servono giusto Per fare le buche E poi li restituisco Mi servono Giusto Il necessario Per iniziare Questa attività Che ho ereditato Il pozzo artesiano Lo volevo fare In questo punto qua Senza accedere le mucche Magari Ecco Dove c'è herz Me lo avevo segnato In questo punto Dai mucca Però Non è che devi venire Proprio dove voglio Fare io I miei lavori Adesso Prendiamo Il volvo Eccolo qua Il volvo Ecco Devo sistemare ovviamente Con il man Prima qua Altrimenti blocchiamo La strada Allora Mettiamoci Perfetto Chiudiamo Le sponde laterali Ecco Questa è una mod Utilissima Per quei veicoli lì Perché Veramente È Difficilissimo Allora Scorta Scortami Allora Scorta Tu volendo Potresti entrare Dopo Dentro La mia Attività Quindi vedi tu Però se volete Rimanere a bordo Strada Non Non mi fa Né caldo Né freddo Non mi fa Né caldo Né freddo Guarda Rimani qua Perfetto Ottimo Tu invece Entri dentro La proprietà Va bene Anche tu Probabilmente No Forse lui ci passa Lui ci passa Forse Vediamo Ha degli assi sterzanti Quindi Potrebbe farcela Raga Guardate Noi Noi Facciamo le nostre manovre Dall'interno Pure Vedete Abbiamo anche La visuale Da passeggero Ok Ma non serve a niente A visuale A passeggero Se Se è un gridino A guidare Voderack Ok Allora Teoricamente Ci passiamo Ok Perfetto Al millimetro Proprio Raga Adesso Andiamo Ma con questo Posso Teoricamente Entrare Proprio Dall'accesso Delle mucche Vediamo le quattro frecce Che non servono più Allora Di qui ci passiamo Così come ci dovremmo Passare anche Dalla zona di qui Vedete Di qui ci passiamo Tranquillamente Con questo Faremo qualche manovra In più Magari lì alla curva Ma nulla di che Non so se posso Mandare le mucche A dormire Per tenerle in sicurezza Per il lavoro Vedete qua Guardate Odorack Anni anni di Eurotrack Vediamo Oh Finalmente Oh mucca Mucca Non attraversare Che sennò Te sfascio tutto Allora Erbuco Lo volevo Fa qua Così lì Posizioneremo Il pozzo Ora più o meno Poi Vediamo Vediamo Giro in giro Hotel Giro in giro Qua Ok Ok Ci dovremmo essere Perfetto Allora raga Per quanto riguarda La terra farm È abbastanza semplice È abbastanza semplice Bisogna Prima di tutto Abilitare il veicolo E l'abbiamo abilitato Possiamo abilitare Il toggle menu Per dire Guarda cosa devi fare Io direi Smooth Vediamo No io direi Il primo Direi il primo E Facciamo così Dai Facciamo toggle E partiamo raga Partiamo Con Questo Ole Così Riusciamo A scavare Per bene Poi Lo scav Ecco Potremmo anche vendere È abbastanza Argilloso Il primo strato Mucca Non mi entrare dentro Per favore Grazie Ti ringrazio Preferisco Non essere Diciamo Infastidito Ok Facciamo Un pochino Più Giù Perfetto E continuiamo Gli scavi Continuiamo 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 Ok Faccio arretrare un pochino il camion Perché l'ho allontanato È perché ogni tanto La merce non entra dentro E quindi diventa un pochino Difficoltoso Multiplayer forse Qualche Qualche aiutine In mio Eh Però Vabbè Fa niente Dai Fa niente Noi Ce la facciamo Anche da soli Allora Dai Tacete Tacete E svuotiamo In teoria Ce la facciamo Ce la facciamo Vuoi mucca E tu mucca però Capito che vuoi guardare i lavori Eh Ma non mi aiuti a non farti investire Guarda si sdraia Si mette lì anche lei Che vuole guardare Lavorare Signorina Signorino Qui Dobbiamo fatturare Anche pure per lei Un po' d'acqua La prenderemo da questo pozzo Appena Appena ce la facciamo A fare Qualcosa Ok Quindi fa questo movimento Questo Fa così Perfetto Ok Prendiamo Facciamo il movimento Dell'anguilla Ok Raga qua sotto C'è roccia pura Eh Perché più Si fa davvero fatica Ci vuole Un martello Un martello pneumatico A ver Anche perché Faccio davvero Fatica 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 a scavare È molto Molto profondo È duro Qua sotto Se vedete È proprio Che fa Che fa Un sacco Ok Ok raga Eccolo qui Finalmente Abbiamo il nostro Pozzo In questa maniera Riusciremo Finalmente Ad avere Un accesso Diretto All'acqua Potremmo fare Anche Un'irrigazione Ma Non Non è necessario Dai Abbiamo Finalmente Un punto Che ci aiuta A rifornirci Di acqua Senza dover Per far Chissà Chissà Abbiamo il tubo Qui Per Il nostro Landini Guardate Ci avviciniamo Facciamo Le giuste manovre Ci ricarichiamo D'acqua Vedete Anche piuttosto Rapidamente Ci avviciniamo Ci avviciniamo In un albero In un punto Dove abbiamo bisogno Di acqua Il gioco E' fatto Qua abbiamo anche Un furgone a noleggio Perché ancora Non ho il mio Devo Procurarmi Un veicolo A noleggio Assolutamente E' un veicolo Per il trasporto Delle albicocche Perché Si abbiamo qualche Trattore Ma Il furgone Fa sempre comodo Adesso Vado qui E Scarichiamo Un po' d'acqua A questo albero E poi A tutti gli altri Che ci sono Anche agli animali Ovviamente L'acqua Essenziale E Abbiamo risolto Un problema Dai Un problema idrico Niente Detto questo Spero che il primo Gameplay vi sia piaciuto Prossimamente Sicuramente Andremo a raccogliere Le albicocche Mi raccomando Lasciate mi piace Iscrivetevi al canale Per non perdervi I prossimi video E noi ci vediamo Alla prossima Ciao